La 16 e il 22 maggio faremo un torneo internazionale denominato FIP Promotion Giulianova. FIP sta per Federazione Internazionale Paddle, diciamo che il nostro torneo è la base, il primo torneo internazionale che si può organizzare in questi circoli, nei circoli un po' più piccoli. Come partecipazione si possono iscrivere da 70 del mondo in poi, non può iscriversi il Lebron della situazione chiaramente, però la partecipazione è già molto nutrita, prevediamo almeno 25-30 coppie da tutto il mondo. Quest'anno si sono aggiunti, oltre come diciamo gli spagnoli e gli argentini, anche Cremona, Cassetti, insomma campioni del calibro che fanno parte della nazionale italiana, che ricordiamo l'anno scorso è arrivata terza ai mondiali a squadra. Io vi invito a venire da noi a vedere il padel internazionale, dei campioni, che è un padel completamente diverso da quello che vedete nei centri sportivi tutti i giorni, perché è un padel giocato da professionisti che si allenano tutti i giorni per fare. Il monte premi sarà di 3.500 euro, diviso in 2.300 euro per il maschile e 1.200 euro per il femminile. Daremo ospitalità dai quarti di finale gratuita e un rimborso per il biglietto aereo, per le spese di viaggio di 100 euro. Le iscrizioni sono aperte, il termine ultimo per iscriversi è lunedì 16 alle ore 12, per iscriversi bisogna collegarsi al sito della federazione internazionale padel, quindi potete cercare su Google FIP padel, cercate il nostro torneo, c'è il modulo di iscrizione dove potete inserire il numero di tessera fit, perché è sì un torneo internazionale, ma è comunque un torneo nazionale italiano, open, aperto a tutti quanti, anzi con un moltiplicatore per la classifica italiana molto molto alto.